Il Faxi è un risultato positivo al test per l'anemia affettiva equina quasi tre anni fa. Insieme facevamo attività di ipoterapia per persone con disabilità. Ogni anno era stato regolarmente sottoposto ai controlli ed era sempre risultato sano. Fino a quel giorno in cui mi è arrivata questa telefonata del responsabile della scuderia del maneggio, il quale mi diceva che Faxi era risultato positivo a questo test. E se il cavallo fosse risultato positivo anche ai test di controllo, io l'avrei dovuto far abbattere. Dentro di me ho subito pensato come faccio ad abbattere, ma lui sta bene. L'unico test legalmente valido per decretare positivo un equide all'anemia affettiva è il test AGID, il cosiddetto test di Concex. È in realtà una malattia molto poco studiata, in quanto la maggior parte degli equidi positivi viene quasi immediatamente macellata. Ora, stiamo parlando di equidi positivi all'anemia infettiva, non necessariamente di equidi che presentano i sintomi e che siano effettivamente malati. Questi sono un gruppo di cavalli che sono risultati positivi al test per l'anemia infettiva. In questo momento stanno in ottime condizioni e non presentano alcuna sintomatologia riconducibile alla malattia. Teoricamente esiste una possibilità di sviluppare una patologia da immunocomplessi, in quanto comunque la replicazione virale all'interno dei soggetti permane. Nei soggetti con la forma clinicamente manifesta si può avere un esito letale. Questo però dipende spesso dalle condizioni fisiche del soggetto e dal trattamento a cui viene sottoposto. Se il soggetto è in buone condizioni fisiche e il trattamento a cui viene sottoposto, iniziato in tempi brevi e condotto in modo efficace, il soggetto può essere ricondotto alla forma asintomatica. Un cavallo asintomatico può infettare un altro equide, ma con una possibilità molto ridotta, dal momento che la viremia all'interno del soggetto è a livelli bassissimi. La remia infettiva equina non ha alcuna possibilità di essere trasmessa dal cavallo all'uomo. Secondo l'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani, i cavalli positivi presentano un livello di viremia generalmente insufficiente per la trasmissione della malattia tramite gli insetti ematofagi. Quindi si parla in realtà di animali che non sembrano rappresentare un grande pericolo del patrimonio zootecnico nazionale. e c'è solo paura, c'è solo ignoranza di dover a questa telefonata a battere il cavallo, ma come? Da parte dei proprietari degli altri cavalli presenti nella scuderia e nonché da parte del responsabile della scuderia stessa è iniziato proprio una sorta di terrorismo psicologico. Quindi hanno cominciato a farmi pressioni perché la scuderia a quel punto doveva essere messa sotto sequestro. Non c'è stato nessuno che sia preoccupato di quello che io stessi passando. Il cavallo è stato semplicemente a un certo punto trattato come un appestato e io anche. Tanto per fare una comparazione si calcola che le percentuali di positività alla lesmaniosi nei cani siano circa del 2600% più alti alla positività dei cavalli nell'anemia infettiva. Ora, a nessuno evidentemente è venuto mai in mente di isolare o uccidere tutti i cani positivi alla lesmania eppure ci sono probabilità che questa malattia passi dall'animale all'essere umano. Stiamo abbattendo un animale sano ma se io lo vedessi stare male veramente e entrare a una malattia che lo sta facendo soffrire non ci penserai due volte. Mi sono detta che sto solo e lo visco ma non lo faccio abbattere. Per fortuna poi quando sono stata messa in contatto con l'Italian Horse Protection Association che è l'associazione che attualmente ospita Foxy ho trovato delle persone veramente disponibili per me è stata una gioia incredibile perché ho detto insomma ce l'ho fatta non lo devo fare abbattere non lo devo tenere in isolamento. L'attuale piano di controllo e di sorveglianza dell'anemia effettiva equina dal nostro punto di vista è assolutamente non necessario. Ciò ha fatto capire la nostra esperienza diretta dell'unico branco di cavalli sieropositivi all'anemia effettiva equina esistente in Italia che da oltre tre anni gestiamo senza avere nessuna conseguenza e nessuna problematica di carattere sanitario sono cavalli in perfetta salute soprattutto ce lo hanno raccontato le tante storie, le tante esperienze di proprietari che si sono rivolti a noi a volte disperati Da volte tre anni cerchiamo di lavorare a fianco del Ministero della Salute per migliorare l'attuale normativa Quando Alessia si è rivolta a noi ci siamo subito attivati per darle una mano per capire quali margini ci fossero di dialogo con l'ASL e in generale con il Comune che ha emanato l'ordinanza di sequestro sanitario abbiamo compreso purtroppo che in Italia si sa poco nonostante un piano di controllo così basso quindi abbiamo ASL e Comuni di conseguenza che emanano delle ordinanze di sequestro sanitario che a volte valigano non solo i limiti della norma ma molto spesso i limiti del buonsenso Per fortuna noi abbiamo rappresentato la sua alternativa e a fronte di questo Foxy è stato ospitato da noi Foxy è ancora oggi qui in perfetta salute presso il nostro centro e in un recinto appositamente autorizzato e questo ha significato salvargli la vita ma allo stesso tempo separarlo per sempre dal suo proprietario Il momento è duro quando arrivo perché ovviamente non lo vedo da tanto ed è estremamente emozionante ed è duro anche quando me ne vado perché non so quando lo rivedrò la volta successiva Mi penso a tutta questa storia e so che comunque grazie all'aiuto di tante persone e grazie alla mia tenacia le ho salvato la vita E' importante ricordare che ci sono delle disposizioni di legge precise su come vanno gestiti i cavalli positivi all'anemia infettiva Una cosa che deve essere assolutamente migliorata da subito è l'informazione per tutti, per i cittadini e per le ASL che applicano la normativa Come Italian Horse Protection ci chiediamo perché lo Stato italiano investa così tante risorse nell'effettuare un numero spropositato di test praticamente inutili invece che destinare le stesse risorse allo studio della malattia ed eventualmente a studiare le sue cure ci chiediamo anche perché si debba rompere il legame che c'è tra un umano e il suo animale o addirittura macellargli l'animale senza che questo poi in realtà porti in alcun beneficio Oggi lo vedo finalmente più sereno, oggi si è integrato nel branco e comunque sta bene Certo è un cavallo che io vedevo tutti i giorni e questo è stato fonte di grossa sofferenza per me e anche per lui che è comunque molto attaccato a me è una ferita che non si rimarginerà mai, mai Grazie a tutti